musica 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 senza esserci vento mettiamo la felpa ma comoda la felpa quando ho visto il disegno su internet non sapevo cosa aspettarmi però poi quando mi è arrivata sono stato molto sorpreso perché hanno scelto proprio una felpa di qualità un materiale di qualità contento morbida leggera per l'italia ciao alla prossima grazie 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 grazie